Se è così no, però se serve, ovviamente fa tanto, ovviamente, tra la fine si non frega, le persone sono soldi, passano arrivamente la batteria, si stendono in panatina, che ha il mio affetto. Il canno è così, è un po' di. Il cane così... Il cane così, sì, ma se mette il canno, il canno è un cina. Se mette il canno, si traccia. Il cane così è un po' di. Il cane... In queste caso c'è il canno, mi viene fuori. Grazie.